buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video anche il video di oggi sarà concentrato sulla pronuncia in particolare andremo a riempire alcuni vuoti che erano stati lasciati in un video precedente analizzeremo quei suoni che costituiscono praticamente l'incubo di tutti i parlanti italiano non madrelingua come abbiamo già detto in un video precedente in cui metterò il link qui in alto l'italiano è una lingua praticamente fonetica cosa vuol dire che si legge praticamente come è scritto ci sono però delle eccezioni e queste eccezioni sono veramente mi ripeto un incubo andiamo con ordine il primo suono che analizzeremo sarà in questo caso il grafema è composto da due lettere ma noi non leggiamo come verrebbe automatico magari ai non madrelingua si tratta di un grafema appunto composto da lettere a cui corrisponde il preciso suono quindi a meno che non si tratti di eccezioni ogni volta che troverete questa cosa scritta dovete ronunciarlo per esempio in pigna oppure anche in spagna quei punti che vi faccio vedere nella nella scrittura fonetica che metterò qui accanto dopo il simbolo fanno identificare che questo suono è molto pronunciato molto forte come se fosse una consonante doppia infatti sentite insieme a me pigna per pronunciarlo è molto semplice basterà che voi arrotolate la lingua proprio prima dell'inizio dei denti nel palato nell'arcata palatale il secondo suono che analizzeremo è il suono G molto simile a quello precedentemente analizzato si indica però in maniera scritta con G più L ed è praticamente quasi sempre seguito dalla vocale I è pronunciato in un modo abbastanza semplice se ci pensate G con questa posizione della lingua I è molto veramente molto frequente in italiano molto spesso oltre che dalla I è seguita anche da un'altra vocale in quel caso si sporrà l'accento sulla vocale pronunciata e non sulla I per esempio voglio aglio vagliare vedete si sente soltanto la vocale che segue in voglio c'è la O in vagliare c'è la A se trovate difficile pronunciare questo suono potete esercitarvi pronunciando in maniera molto forte la L sostituendo la L a questo suono per esempio diventa voglio oppure aglio oppure vagliare con un po' di pratica vedete che vi verrà molto più facile pronunciare G che queste due L pronuncia dovuta alle vocali I ed E in particolar modo la prima serie di suoni che analizzeremo sarà quella C G C G ho messo insieme questi due consonanti C e G perché hanno un comportamento praticamente uguale quando infatti precedono una vocale che sia A O o U hanno un suono sordo ovvero si pronunciano C oppure G per esempio casa gallo cono gonna cubo gusto sentite C G è sordo se invece queste due consonanti sono seguite da la lettera E oppure dalla lettera I hanno un suono che si chiama affricato la C si pronuncerà C e la G si pronuncerà G quindi per esempio abbiamo cena gesto cibo giro quando a questo suono affricato dopo la I si trova anche un'altra vocale allora noi come nel caso precedente poniamo l'attenzione sulla vocale che segue dopo per esempio cielo giallo grigio trucciolo si pronuncia soltanto la vocale che viene dopo e non la I la I indica soltanto graficamente che la parola deve avere il suono C oppure G ricollegandoci quindi a quanto detto appena prima sui suoni C G C G ci viene il problema il dubbio quindi come rappresentiamo graficamente una parola che invece ha il suono C e G seguito da una E o dalla I per esempio come lo scrivo ghiaccio oppure chiamare è come si scrive quando noi vogliamo pronunciare che ghe chi ghi è in questo modo che entra quindi in gioco la lettera H in italiano l'H è muta non si sente quindi anche nelle parole che cominciano per H come per esempio hotel oppure o che è un verbo non si pronuncia è come se non ci fosse non ha per niente l'aspirazione che è tipica ad esempio delle lingue germaniche come l'inglese o il tedesco non è hotel o io ho è semplicemente hotel o a volte si trova magari nelle espressioni come quando vogliamo indicare silenzio diciamo SH e si scrive normalmente SH ma è soltanto un modo di dire nella lingua italiana non esistono parole in cui l'H si pronuncia SH ossia spira si utilizza però appunto con le consonanti K e G per indicare che devono avere il suono sordo davanti alla I e davanti alla I quindi quando io voglio scrivere la parola CHIAMARE dovrò scrivere C, H, I e poi il resto della parola altrimenti se non ci fosse l'H saprei io che leggo che devo pronunciare CHIAMARE allo stesso modo con la G si comportano esattamente uguali quindi per esempio io scrivo CHIARO, RIGHELLO leggo che c'è l'H vuol dire che hanno una pronuncia sorda. Questo grandissimo gruppo di suoni particolari legati alle consonanti C e G e alle vocali E ed I si conclude con la SH indicata con SCI o più normalmente più frequentemente con SCI oppure SCE si ricollega anche questo al discorso di prima quindi partiamo dall'inizio il suono SH lo troviamo quando troviamo scritto SC quindi anche qui quando SC precede una A, una O o una U avrà un suono duro, sordo quindi SC, per esempio SCOPA o SCALA oppure addirittura SCUOLA sentite SC, SC come si legge? nel caso in cui invece il nostro trafema SC preceda una I o una E avrà un suono abbiamo detto SH quindi se io devo dire SHARPA saprò che è scritto SCIARPA oppure di nuovo SCELERATO SCELERATO per il resto della parola quindi anche qui come si fa a identificare il suono SC prima di una I o di una E anche qui bisognerà mettere l'H per esempio in SCHEMA o in SCHERMA oppure in SCHIETTO infine nel caso in cui ci troviamo di fronte alla grafema SC prima di una I o di una E e prima ancora di una vocale quindi per esempio S-C-I-O ugualmente come negli altri esempi precedenti dobbiamo pronunciare soltanto la vocale che segue quindi per esempio SHOPERO, SHARPA, SCENZA e così via io per oggi ho finito, vi ringrazio di aver guardato questo video fino a questo punto se vi interessano altri video di questo genere spero che vi iscriviate e ci vediamo presto ciao ciao